Dopo i movimenti franosi e dissesti che si sono verificati sulla strada provinciale 15, tra Pollica e Dacciaroli, proseguono i lavori di messa in sicurezza dell'arteria, di ripristino e di consolidamento da parte della provincia di Salerno. L'importo dei lavori ammonta ad oltre 150.000 euro e si tratta di interventi urgenti di protezione civile finanziati con il PORFESR 2014-2020. I lavori sono in corso, assicura il presidente della provincia Michele Strianese. È nostra premura riaprire la strada pur con possibili limitazioni, non appena le condizioni di sicurezza lo consentiranno, ben prima della completa ultimazione dei lavori. Vogliamo fare il possibile, aggiunge Strianese, per evitare disagi ai cittadini e limitare al minimo i problemi di mobilità, soprattutto in vista del periodo estivo. L'arteria, infatti, in questione è una strada molto utilizzata nel periodo estivo dai tanti turisti che si recano in zona per visitare le bellissime località cilentane.